buongiorno buongiorno coccodrilli si 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 è venerdì oggi una giornata speciale specialissima il venerdì come piace a noi eccola lei subito pronta incredibile si 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 è venerdì si 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 è venerdì si 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 è venerdì il demonio eccolo qui ma che ti dico io è stronti ma va via va chi è che ne scherza va via tu c'è mi manco bello il tuo cuore bello guarda che bello tu guarda viene da rire guarda guarda si mi viene da piangere risveglio muscolare pasquale vai uno due tre bene lì unite per far lavorare tutto il bicipite vai quattro cinque sei sette otto riposo come te senti come te senti guarda guarda come come passata stai meglio senti che stai meglio quindi ragazzi ci vuole sto risveglio muscolare capito un po così secondo esercizio sempre risveglio muscolare pasquale con la torta pasquale vai destro sinistro antipasto misto vai destro sinistro destro sinistro destro sinistro sinistro destro sinistro riposo mamma mia la stoffa proprio fatica veramente pesante e dispendioso di energie soprattutto non è bene ma non è bello prestato ma non è buon giallo al bagno non è ora che ti al bagno fa 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 alto ma fa il culo buongiorno 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 ah Vi faccio vedere una nuova razza di uccello È l'impiccione Cioè quello che si fa i cazzi degli altri Guardate come si fa i cazzi Oh, dormimo? Questo era l'impiccione Va bene con quest'outfit? Eh? Va bene quest'outfit? Questa, sì? St'outfit va bene? Sì, sì Fanno da dove? Fanno a fanculo Oh, al top proprio Olwers Guardate qui le nostre bolle Vogliono sapere oggi che giorno è? Sì, sì, sì È venerdì Sì, sì, sì È venerdì Sì, sì, sì È venerdì Sì, sì, sì Va a fanculo Oh, doppio Stronzo, stronzo, stronzo Anche a Pasqua si è stronzo Ma perché? Ma perché? Come che? Guardate qui Ma perché vanno... Fermate Che partezza è sotto la testa Ma ti digerisci meglio Li digerisci meglio Dammi retta Ma ti digerisci Che? Guarda quello che fa Che fa? 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 Stronzo Nooo Eh, no No Hola mamma Eh? O ma? Ti metto gli occhiali Mamma mia Sei una fashion block Eh? Mamma di fashion block Automunito Casa del suo Automunito Fashion blocks Andiamo Eccola qua La classica Posizione per piazza E tutti i cazzi degli altri Ecco E va bene Ma io e bene Non passa a nessuno Però sta pieno Secondo me Eh? E beh Sta pieno o no? Pieno Pieno Il tuo pesce C'è arrivato Guarda Questo che pesce è? Pesce sfinta? Pesce sfinta Nooo Noo Si Ma sei sempre a pensare di lì Sei rincoglionito Proprio Che è? La razza Questo è un bello scampo Eh, è meglio Ma puzzi Avanti Ma perché fai così? Mettete uno scampetto addosso Non hai scampo Dai Ormai non hai scampo E vaffanculo E vaffanculo E vaffanculo Ma perché? Ma che è? Ma che è? E sta cazzo Nooo Nooo Fammi toccare una poccina Beh Ma manca Sei venuta anche da più La rumpicoglione Fammi toccare una poccina Ma non hai giocato Ah E volevi vedere il pesce Te l'ho fatto vedere Ale Chiuso Posta Vai Ando nel mio garage Guardate che bello Tutte le collezioni Coca-Cola Che ricordi Mamma mia Pieno La domanda è Secondo voi Hanno un valore Guardate quante ci sono Ancora tutte Ingustate Ingustate Impacchettate Qualcuna no Questa è fauna Ma c'è nel forno Ma con sto capello Di qui Oh Ti sciacco di coglioni Già comincia A romper il cazzo Ma com'è c'è nel forno E perché non ci metto dentro E che c'è coce Che c'è coce I coglioni E dopo come Come li mangi Cioè qual è il tuo piatto Perché comunque La gente piace anche sapere Come mangia il nonno L'alimentazione Del cardinal Richelieu Cardinal Richelieu Cardinal Richelieu Vattene 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 Come ride ragazzi Ma nonno bello Che ride così Ma che c'è sta Di qui dentro Che c'è sta Fa vedere Spoiler Spoiler Vai C'è un gatto Mamma mia Che è o no Che è Un gatto È un rombo Oggi si romba Vai Ma perché si romba Via Ma perché si è venuto qui Sta pieno Le torte di Pasqua Domenica faremo l'estrazione Per chi vincerà una torta di Pasqua Fate swipe up Andate nel mio store E potrete essere sorteggiare E potrete essere sorteggiare Noo 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 Vabbè Sta pieno Noo Sta pieno Fa vedere un po' Sta pieno Sta pieno Apre 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 Noo Non ci apre Sta pieno Di torte di Pasqua Mamma mia Raga Noo Sta pieno Fa noo Noo Fa la bocca Meglio Noo Meglio Ma vaffanculo Ah Un amico Ha portato i scampi Guarda che bella maia che hai Bravo Hai visto Hai visto Io sono amico E tu sei un amico E adesso gioca una battaglia navale In vedevolora Sì è in vedevolora Ah che bello F centrici Ah qui sta sta maia Va arriva il pupazzo di Mariano Con sta barba Guardate che barba che c'ha Ma che te l'ha fatta Eh Edo Armani Con il taier Ma ti ho ridato Sudando A freddo Ma che sudi Che sudi che ti ho fatto fai soldi Ma che soldi mi hai fatto fa Dove bisogna andare Che bisogna fa Ant 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 Aragorn ragazzi Signore di anelli Quindi tutto su Aragorn Delle cripto pazzere Aragorn Le cripte Stiamo sulle cripte Non è un consiglio finanziario No Stiamo solo ecco Altro che battaglia navale Di qui ragazzi Di qui si affonda vero Raga abbiamo detto Tutte di quella Speravamo Ante Aragorn Ante Aragorn Allora il capello come va fatto Così Come Carletto Vero come lo zio Vero Adesso sinistro Antipasto Adesso sinistro Antipasto 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 Misto Antipasto 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 Misto Sì 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 Vedi una cosa del genere Eh No non ti do Che è bravo Pulisce il tappeto Eh È bellissimo È Ele te lo lascio il bambino va bene? ciao l'ascensore di Mariano è differente è per questo che è sempre bello vedi? se le foto di qui è facile così è il fashion block mangia e beve mangia e beve e dopo? e poi? e poi va a fare guarda come arzucca il gamberone ma tu ne fai la mazzancolle la sbuccia tutta trick e track e ballacche perché tu ne fai le scorse? guarda guarda arzucca? arzucca? manca e beve che sacco di coglioni? mi hai telefonato che mi cercavi tu stai tu stai tu la torni cioè scassando ha portato via ma stai mangia e roba i coglioni fammelo il tuo figlio è scassato? no no le minacce le minacce no le minacce no guardate che tartare non le minacce no non le minacce no ma dove sei stato? ma non mi ha portato ma se puoi accampare cucina ecco la cuoca saluta che spetta ha fatto le robe assoluta parlici madonna non mi vuole sono arrivato ascolta chi è? non lo sape niente senti chi è? ma tu che sei da fare senti chi è? non lo sape niente no no questo è un imbeciso se parlate neve lo fa casino mi ero con Paolo del Nero 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 con Paolo del Nero ha fatto un rombo al forno quel pescione era fantastico ringrazio Mauro e Adriana ringrazio grazie grazie tanto per tutto quello che ti avete dato grazie colombina eh eh balanzone anche la colombina eh ma anche lei comincia a rompicoglione ma scusi lei questa colomba ricolombata con doppio pistacchio ripisticchiato che dieta è? che dieta quella di coglioni ah è cambiato per Perilo Pasquale questa la requisisco io battene Dio guarda quanti ce ne è si è aggiunto anche un padre Pio che controlla no ma giralo verso nonno che controlla meglio un po' giralo verso nonno si oh adesso il VAR adesso sono tutti puntati anche la ziggiana gira che non si sa mai vai oh tutti puntati che lei comanda era sopra i sangi che faceva? che faceva nonna maria? stai a vedere il 26 sul 26 guardava? ma che guardava sul 26 una volta era il camio si si che guardava nonna maria i mini quelli che aveva sfinecca come si chiamava quella sfinecca eh e nonna maria che faccia guarda lui guarda e che gli fa? oh e poi guarda io ci sei là è vero o no? non mi rompe tanti coglioni non mi rompe tanti coglioni e sciacchi di coglioni ti fa il pennello ma lei ti cammina scemo spalettia ti fa il pennello ma si il pennello falle tal culo no ma non fa il pennello mannaggia il crocistrat batte ma manca un pennello un santa pazza ma che è il pennello? guarda quanto ce l'ho bello il pennello beh beh certo ti fa anche la faccia fashion block mannaggia batte lì ma gli fa un po' di pennello un po' di pennello guarda chi è? è un coglione guarda sei un po' fashion block anche tu mettona guarda eh ma ciao 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 sono un fashion block bello eccolo oh no che stefa? dormi? si oh magna e dormi? si adesso 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 non c'è la luce tanto ma sei scemo? ma sei scemo? il gioco della luce è sempre uno dei più belli ecco mangi fai una bevuta una bella bevuta stai un po' sotto con la famiglia come tutti i giorni ecco sul letto è un attimo è così ormai nemmeno c'è più il gusto di una di Pasqua ma Pasqua tanto se sei sempre in casa una volta si diceva Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi invece niente vabbè cercamo sempre le cose con ottimismo dai speriamo che st'estate si possa ritornare grandi lo spero vivamente anche perché st'estate c'è una sorpresa bomba mamma vorrei dire però non lo posso dire non lo posso dire perché abbiamo fatto sta cosa con nonno che è una figata una figata pazzesca tanti di voi l'hanno capito ma ancora non si può di niente bomba atomica ragazzi sono contento